Allora ragazzi, partita la registrazione, perfetto. Ragazzi buongiorno a tutti, io sono Scadella Armando, istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Siamo vicini al Natale e ci avviciniamo quindi alle festività, ai momenti più belli che appunto andiamo a passare insieme ai familiari attraverso tanti impasti di panettoni, di grandi lievitati e di lieviti madre che vanno a inacidire in maniera impressionante, quindi queste sono un po' le cose che succedono ogni tanto, soprattutto sotto le festività. Nello scorso webinar abbiamo parlato di quello che era il lievito madre, infatti per chi se l'è perso questo appuntamento basta andare su YouTube, sul canale dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti quanti i video che andiamo a pubblicare, lasciate un bel like e un commento al video qui sotto e per il resto per qualsiasi dubbio potete anche scriverlo direttamente nei commenti che poi vi verrà risposto. Allora, come stavo dicendo prima, abbiamo fatto già un webinar inerente alla pasta madre che io invito un po' tutti quanti anche a rivedere perché è molto molto interessante, molto molto importante per chi appunto si vuol dedicare a quello che è il grande limitato. Oggi però tratterò un'argomentazione differente che ha preso un po' la mia attenzione ultimamente perché se ne parla abbastanza anche sui social e secondo il mio parere viene data poca importanza su questo argomento. L'argomento di oggi è distinguere e parlare delle specialità, delle specialistiche e delle particolarità che ha la pizza in pala, la pizza in teglia e la pinza romana perché fondamentalmente e spesso e volentieri questi tre prodotti vengono classificati come la stessa cosa e io penso che non ci sia idea più diciamo sbandata di questa qui perché fondamentalmente questi tre prodotti hanno delle particolarità, delle diversità che li distinguono tutti e tre l'un dall'altro e sinceramente posso dire che è vero la la pinza scusate la palla romana e la teglia romana si avvicinano sotto un certo punto di vista su delle particolarità si avvicinano ma la pinza romana classificarla uguale alla pizza in pala e alla pizza in teglia a mio parere è una delle cose più sbagliate che si possa dire perché fondamentalmente soprattutto per quanto riguarda la pinza abbiamo comunque come marchio registrato lo sappiamo già anche il discorso delle marche che non vorrei citare all'interno di questo webinar ma ci sono delle marche specifiche che hanno fatto delle determinate mix di farine di determinati mix di farina utilizzata appunto per l'ottenimento della pinza romana c'è anche da dire una cosa è che allora un attimo solo scusatemi ok perfetto così non si possono attivare ogni tanto succedere dei piccoli piccoli errori di microfono come stavo dicendo la pinza romana ha dei marchi registrati quindi tu per poter dire che fai la pinza romana o che comunque hai un locale che fa pinza romana deve essere registrato fondamentalmente per delle specifiche inerenti ad avere quel marchio che tu fai la pinza romana quindi ci sono delle dei determinati passaggi da dover rispettare per poter dire che tu fai la pinza romana nel tuo locale anche se poi ovviamente tanti fanno un po come gli pare ora più nello specifico non so che cosa vadano a cambiare per riuscire a mettere ugualmente pinza ma comunque sappiamo bene che tante persone pur di non fare determinati passaggi trovano altre scamotaggi comunque entriamo un po nei dettagli voglio lasciare quelle che sono le differenze un po nelle sottigliezze quindi tra pala e teglia nella parte finale e vorrei concentrarmi un po su quella che è la pinza romana la pinza romana si è vero prende spunto dalla sua forma e dalla sua anche consistenza a quella che è la pala romana che comunque già tanti di noi conoscono però non possiamo classificarlo uguale perché comunque è completamente diversa dalla pala perché comunque la pinza romana nel suo mix di composizione e contiene determinate tipologie di farine determinate tipologie di farine e anche in certe percentuali che comunque sono ben precise sappiamo che ci sono i semi lavorati per poter fare la pinza romana ci sono i semi lavorati possiamo farci anche noi il mix per fare le pinze romane ovviamente io se dovessi dare un consiglio opterei più per quanto riguarda il semi lavorato anche perché l'ottenimento di una pinza con l'utilizzo di un semi lavorato è molto più semplice e molto più anche diciamo sempre uguale quindi non andiamo a spallare non andiamo a incombere i risultati differenti quindi la prima cosa che c'è da dire è questa che comunque tantissimi si fanno il mix per conto loro per l'ottenimento di una pinza le farine ora ne dico alcune però nei semi lavorati ce ne sono di più e anche quelle che sono prescritte sono anche di più le farine presenti oltre alla 00 sono la farina tipo 1 la farina di riso la farina di farro la farina di soia e anche altre tipologie che sappiamo bene adesso che le elencate alcune sono senza glutine alcune sono deboli di glutine molto deboli ma più che altro che vanno a tonificare di molto il sapore di quella che sarà il prodotto finale alcuni si fanno il mix per conto proprio io lo sconsiglio perché toccherebbe comprare quei tot di farine bisogna fare il test e vedere se queste tre farine combaciano insieme in maniera adeguata senza nessun problema e appunto poi continuare a prendere sempre tre quattro cinque o sei varietà di farine differenti quindi questa è la prima cosa che ci tengo un po a sottolineare comunque che la pinza romana a mio parere se deve essere fatta possibilmente utilizzare il semilavorato perché per essere riconosciuta come pinza i costi sarebbero molto più alti esattamente perché comunque comprare tre tipologie quattro cinque tipologie di farine differenti sappiamo tutti quanti per quanto riguarda soprattutto chi è imprenditore che la spesa sarebbe molto più grande perciò per quanto riguarda la pinza romana il discorso della pinza romana ricordatevi sempre di rispettare quello che è il disciplinare avvantaggiatevi con il lavoro cercate di semplicizzarvelo e non di renderlo complicato anche perché voglio aprire una piccola parentesi fare un prodotto con un semilavorato non bisogna denigrarlo almeno io parlo per quanto riguarda la pinza perché ovviamente i semilavorati per pane e quant'altro non li consiglio però per la pinza romana essendo che di suo è comunque un semilavorato sinceramente riuscire a farlo anche con appunto un semilavorato e non con farine diciamo distinte tra di loro è comunque difficile cioè non è facile la pinza non è semplice da fare perché comunque ha dei passaggi dei procedimenti perciò non è che bisogna dire di lui fa la pinza con il semilavorato non è di livello assolutamente no perché comunque ci vuole una certa tecnica e ci vuole una certa gestione degli impasti e ci vuole anche una sorta di manualità quando si va ad impastare e chiudere gli impasti per ottenere una buona plasticità quindi la pinza romana di consistenza si presenta si presenta comunque molto friabile molto friabile un crunch molto leggero non un crunch duro assolutamente perché altrimenti sarebbe troppo troppo asciutta troppo troppo dura e anche fastidiosa e un gusto molto più tonificato rispetto alla pala romana quindi la distinzione principale tra la pala romana e la pinza romana che una ha un disciplinare ha un disciplinare ha un ricettario e fondamentalmente più ti adegui a quello e più rispetterai quella che è la ricetta della pinza anche perché si tratta di lavorare di giocare con farine che sono deboli di glutine non hanno glutine non so se possono reggere alti idratazioni e quindi andare a giocare un po questi sbalzi di ingredienti e di quantitativi potrebbe portare ad anomalie belle gravi quindi consiglio di fare affidamento più che altro quelle che il ricettario e il regolamentario del per quanto riguarda il prodotto stesso anche perché la pinza romana non va classificata appunto come qualcosa che uno si va là e inventa la pala romana invece la pala romana noi possiamo farla con tutta tipo 1 tutta tipo 2 non c'è un disciplinare per quanto riguarda essa la pala romana nasce anche quella come la pizza in teglia nei forni praticamente con gli impasti che avanzavano del pane si andava a preparare queste pale e pizza in teglia ok quindi principalmente la pala nasce dall'impasto del pane piano piano comunque l'abbiamo portata in pizzeria e appunto sono nati dei locali che hanno proprio la specialistica per solo esclusivamente fare pizza in pala la pizza in pala non ha una farina ben specifica con cui dover fare questa tipologia di prodotto nel senso non sei costretto tu che decidi di fare la parola romana ad utilizzare questo mix di farina e questa tipologia di farina per fare questo prodotto puoi utilizzare dalla 00 alla tipo 1 tipo 2 integrale anche la semola di gran duro l'importante è che appunto tu cerchi di rimanere poi ovviamente dipende dal target di clientela a cui tu stai dando il tuo prodotto che tipologia di prodotto vuoi dare se è morbido se croccante se è friabile o altro ancora perché la pinza romana torna un pochino indietro se uno parla di pinza romana va subito a pensare che comunque si tratti di un prodotto croccante sfido diciamo chiunque che nel momento in cui sente la parola pinza romana non gli venga in mente la croccantezza è difficile che uno gli venga in mente subito un prodotto croccante un prodotto super croccante è difficile non pensarlo appena uno dice la parola pinza romana nella pala noi abbiamo la pala morbida la pala croccante la pala più stesa più lunga più bassa una pala più alta la farcita cita abbiamo tante tipologie fondamentalmente perché perché appunto la pala avendo la sua origine nei forni con gli impasti avanzati piano piano tutte quante le persone hanno iniziato a farla con tutte le tipologie le varietà di farine anche magari a volte facendo di mix facendo di blend di farine però i blend di farine comunque devono essere calibrati bene le ricette vanno testate perché bisogna vedere se le farine legano bene e si trovano bene anche durante l'impastamento perché noi sappiamo bene che ogni farina ha la sua caratteristica alla sua scheda tecnica e alle sue diciamo particolarità a volte miscelare più tipologie di farine non è una cosa positiva perché bisogna vedere se appunto tutto quanto lega come si deve e in maniera anche equilibrata perciò quando voi partite a fare magari impasti di pizza in teglia o pizza in pala cercate sempre di partire con un solo tipo di farina io vedo tanti che magari si sbizzariscono quando fanno i blend di farine ma fare i blend di farine non è che ti valorizza perché dici wow c'è messo la tipo 2 tipo quello tipo quello tipo quell'altro più che altro se tu che ti complichi un po la vita perché diventa complicato e difficile poi gestire quell'impasto e devi vedere se tutte le farine combaciano tra di loro cioè che legano bene lavorano bene ti gestisce bene l'impasto ok torniamo un po sul discorso senza perderci la pala romana nel momento della stesura e della gestione a una sorta di tecnica che è differente dalla pizza in teglia perché adesso entriamo un po nelle sottigliezze tra quella che la pizza in pala e la pizza in teglia allora la pizza in teglia quando viene fatta prima di arrivare al momento della gestione voglio parlare già dalla stesura che la cosa principale la pizza in teglia differentemente dalla pizza in pala solitamente andiamo a stenderla un po di più un po di più perché perché la pizza in teglia poi dobbiamo cercare di allargarcela già già dall'inizio per poi una volta andarla appoggiare nella teglia a riuscire subito ad allargarla e a complementare quella che la teglia stessa senza andare poi troppo a stressarla quindi noi andiamo già durante il pigiare lo schiacciare l'allargare il nostro panetto a creare un volume a creare quindi una sorta di quadrato di pasta che poi noi andiamo a mettere dentro e lo sistemiamo in maniera veloce la pala romana invece non va stessa tantissimo non va schiacciata tantissimo e va fondamentalmente una volta che è stata stesa toccata il meno possibile perché poi tutto il restante deve avvenire in forno quindi non avendo una teglia che fa da substrato che consente alla pizza di dargli un po più di tempo di sviluppare di asciugare quant'altro ma abbiamo la pala che va subito sul piano del nostro forno dobbiamo cercare di fare attenzione di non aver toccato troppo troppo il nostro panetto di pasta perché altrimenti lo andiamo a rovinare lo andiamo a bucare lo andiamo comunque a rompere e ci perde di qualità la struttura non è più omogenea non è più come si deve e quindi ci perde su tutti quanti i fronti no quindi la prima cosa è la stesura poi entriamo nel discorso della gestione per quanto riguarda la gestione noi possiamo fare questa tipologia di impasti con prefermenti nessuno ce lo vieta possiamo tranquillamente utilizzare prefermenti in tutti in tutti i casi e in tutte le tipologie di prodotti che appunto scegliamo di fare nella gestione invece dell'impasto una volta chiuso la pala romana dovrebbe deve cercare di avere meno ore di massa perché deve accumulare meno forza possibile ok perché il panetto della pala romana meno forza ha meglio è perché poi il tutto lo dà in forno il tutto lo sviluppo lo dà in forno se il mio panetto di pizza in pala ha troppa forza troppa elasticità perché l'ha sviluppato tramite la massa che noi diamo solitamente per tipo la pizza in teglia che succede che una volta che andiamo a fare la stesura io faccio pala romana ok leggevo tra i commenti se c'è qualche domanda scrivetela tranquillamente perché se c'è troppa forza nel panetto della pizza in pala il problema dove sussiste che praticamente una volta che andiamo a mettere il panetto in forno parte che non si allargherà più di tanto quindi rimane stretto si ristringe ma poi un altro problema è che una volta che comincia a sviluppare in forno si fa il pallone e quando si fa il pallone quello è un difetto non è un pregio del nostro prodotto il pallone si forna quando c'è troppa forza c'è troppa elasticità all'interno del nostro panetto e quindi creando questa sorta di camera piena di vapore ci rovina completamente il prodotto qualitativamente visivamente e anche strutturalmente e non va bene per cercare di non avere così tanta forza cerchiamo di lavorare possibilmente con pochissima massa e molto più a pretto perché con l'appretto non andiamo a sviluppare molta forza perché la pala non deve avere troppa forza se ha troppa forza non va bene se troppo debole non va bene dobbiamo però cercare di essere un po verso il malleabile dell'impasto che non sul rigido ed elastico diversamente sulla pizza in teglia invece avere un po più di elasticità è una cosa positiva perché comunque quando noi andiamo a fare la stesura che appunto è pigiata un po di più se ha abbastanza forza l'impasto che cosa succede che comunque riesce a mantenere dentro i gas li riesce a mantenere dentro senza farli uscire e durante la sistemazione del panetto dentro la teglia non escono i gas non si rompe la pasta e quando poi andiamo in cottura cioè noi che facciamo lo lasciamo un po rilassare poi andiamo a risistemare di nuovo nuovamente sui bordi e sui lati della teglia andiamo a mettere l'olio facciamo i buchi sulla parte nel caso in cui facciamo una focaccia e poi andiamo in forno in questo modo quella forza non ci serve perché quella quantitativo di gas che mi rimane dentro intrappolato non riuscendo ad uscire mi creerà quelle che sono le strutture all'interno del mio della mia pizza in teglia altrimenti se il panetto di pizza in teglia è troppo debole quando andiamo mettere in teglia e lo andiamo a mettere in forno avrà difficoltà a crescere e a sviluppare e questa cosa fondamentalmente non sarà positiva per tutto il restante della qualità e della particolarità del nostro prodotto sostanzialmente le particolarità si differenziano abbastanza le idratazioni no le idratazioni nel senso la pala può avere la stessa idratazione della pizza in teglia perché comunque viaggiano sullo stesso treno anche sulla pizza in teglia non ci sono delle specifiche sull'idratazione e quindi possiamo variare da quello che è il 70 75 80 per cento 90 per cento non ci sono delle idratazioni ben precise ovviamente fate molta attenzione perché da un lato la possiamo lavorare asciugare in un modo e dall'altro la lavoriamo ed asciugiamo in un altro modo e quindi bisogna fare molta attenzione importante ecco il discorso dell'equilibrare bene la forza e la debolezza del nostro impasto cercando di comparare bene per non avere né il bollone che gonfia del nostro panetto e né rischiare che non si alza niente che rimane tutta sottile e stesa praticamente come se fosse schiacciata ok scusate un secondo quindi queste sono le particolarità principali per quanto riguarda tra la pizza in teglia e la pizza in pala e come vi ho detto già all'inizio del video sono delle sottigliezze che viaggiano un po sullo stesso piano viaggiano un po sullo stesso piano e appunto si differenziano di poco si differenziano di poco però bisogna sempre riconoscere queste differenze cioè mai fare di tutta la buon fascio dire che comunque sono la stessa cosa no perché a volte uno dice che sono la stessa cosa perché confonde il discorso che sono della stessa idratazione a volte uno da l'affermazione che sono gli stessi prodotti perché non hanno una specifica nell'idratazione e non hanno una specifica nella farina ma la gestione diversa la gestione è completamente diversa perché in tutti e due modi dobbiamo cercare di lavorare cercando di puntare al prodotto che vogliamo ottenere e alla qualità che vogliamo ottenere mi sono concentrato un po di più sul discorso pizza in pala pizza in teglia perché appunto sono quelli un po più trattati pinza romana si distingue già di suo però purtroppo mi è capitato di vedere persone che appunto dicevano che la pinza romana è uguale alla pizza in pala è uguale alla pizza in teglia purtroppo questo è un bel problema perché non è vero fondamentalmente non è vero ci sono davvero delle differenze tra tutte e tre i prodotti e la pinza romana è quella che si discosta molto di più dall'altra tipologia bene ragazzi io se avete qualche domanda di rispondo tranquillamente e per qualsiasi dubbio per prestito incertezza potete chiedermi direttamente qui nei commenti potete scrivermelo me lo potete anche scrivere sotto al video su youtube io intanto avevo letto che c'era qualcuno che faceva già ok io produco pinza ed è completamente diversa dalla pizza in pala ok qui ho già visto comunque tra i partecipanti che ci sono persone che fanno la pinza romana e quindi sanno già che comunque tra tutti questi tipologi di prodotti ci sono differenze ben grandi da tutto ciò però vi dicevo se ci sono domande allora potete farle tranquillamente altrimenti noi non c'è problema ci vediamo la settimana prossima che ci avviciniamo a quello che è il natale ormai ci siamo quasi e fatemi sapere se appunto avete qualche argomentazione nello specifico che vi interesserebbe approfondire o comunque conoscere meglio di quelli che sono gli argomenti missi dell'arte bianca e vi lascio questo video in registrazione sul canale dell'accademia nazionale pizza talk mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere ogni notifica per quanto riguarda i video ah ecco brava hai detto hai fatto una domanda giusta la cottura è un'altra differente è una ha delle differenze fondamentalmente assolutamente sì ecco il discorso della cottura che è fondamentale la pinza richiede maggiormente di avere una precottura perché chiede la precottura la pinza perché la pinza romana ha un alto contenuto di amidi ha un alto contenuto di amidi e più riusciamo a a renderli disponibili per fare una buona maillard e per fare una buona caramelizzazione attraverso la precottura molto più facilmente riusciamo ad ottenere quella croccantezza e quella consistenza ecco perché la pinza viene consigliata la precottura la pala si viene fatta la precottura però si può fare anche cottura diretta non è obbligatorio sulla pala romana la pizza in teglia invece lo stesso discorso della pala si può fare sì la precottura ma possiamo optare sia per la precottura e sia per la cottura diretta poi dipende anche dai liquidi e dalle cose che ci andiamo a mettere sopra questa è un'altra domanda molto molto importante che appunto il discorso delle cotture ok ragazzi se non ci sono più domande noi ci aggiorniamo privatamente e nel nostro gruppo privato su whatsapp troverete questo video ripeto sul canale dell'accademia nazionale pizza doc io non do molte pieghe alla pizza sono le pieghe quando questa che è arrivata la domanda ragazzi proprio verso la fine quando la metto a puntare allora il discorso delle pieghe possiamo andare tranquilli tutte e tre le tipologie perché comunque parte in forza ci deve essere dell'impasto perché se non c'è forza comunque l'impasto non sale su le pieghe va bene l'importante è fare molta attenzione a gli sviluppi in massa più che altro sulle pieghe possiamo andare tranquilli le possiamo fare su tutte e tre ok se non ci sono domande ragazzi io sono verso la fine di essere un'altra domanda noi ci vediamo giovedì prossimo per un altro webinar e per qualsiasi domanda scrivetevi in privato io vi saluto tutti e ci vediamo nel nostro gruppo ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti